Amici 2019, Tish raccomandata da Rudy Zerbi? Amici 2019, nessuno si aspettava che Tish arrivasse in semifinale, ma il suo talento piace a tutti i giudici in studio e non solo. Gli studenti del talent show Amici di Maria De Filippi stanno iniziando a vivere sulla propria pelle cosa vuol dire essere costantemente sotto i riflettori. Non si può piacere sempre a tutti e molto spesso, anche se si fa bene il proprio mestiere, ci sarà sempre qualcuno pronto a scoraggiare o a porre ostacoli. E quanto sta accadendo in questi giorni a Tish, la cantante della squadra blu. Nonostante abbia ricevuto l'ambita maglia per poter partecipare alle finali del programma, la ragazza è al centro di numerose critiche da parte di coloro che non la riterrebbero idonea. C'è da dire che nel corso di questa edizione la Boric ha seguito un percorso di crescita costante e ha affrontato numerose sfide che ha sempre superato con molta bravura. E' vero, ha fatto anche parlare di sé per il suo carattere particolare e anche per la sua complessa storia d'amore con Alberto. Ma sul merito non ci sarebbe nulla da dire. Eppure la sua qualificazione non è mai stata scontata. In origine era stata addirittura scartata e non prevista nella gara, che avrebbe determinato le qualificazioni. Ma questo ha scatenato una vera e propria rivolta sui social, con la creazione di diversi movimenti che ne chiedevano il reintegro. E così è stato. Criticato Rudy Zerbi per aver favorito Tish ingiustamente. Ma sarà stato così? Una sfida con Giordana e all'orizzonte. La gara in prima serata su Canale 5 è stata un successo se si considera che Tish ha avuto l'approvazione di quasi tutti i professori. Oltre a quelli classici, vi erano anche giudici d'eccezione come Emma Marone, Mara Veniera e Gerry Scotti, tutti positivamente colpiti dalle sue esibizioni. Anche gli altri suoi colleghi all'interno della scuola erano convinti che non ce l'avrebbe fatta, ma la ragazza stravagante dalle eccezionali doti Canore ha stravolto tutti i pronostici. A questo punto diventa probabile una nuova sfida con Giordana, la sua rivale di sempre. Dopo qualche ora dall'esito delle gare, è circolata tramite social una notizia che pare non abbia un fondo di verità. In particolare il sito ufficiale di Amici di Maria De Filippi è stato invaso dai messaggi che hanno alimentato una polemica quasi inutile. Secondo alcuni followers, infatti, la Boric sarebbe stata favorita da Rudy Zerbi. Ma se poi si va a vedere la media dei voti, si scopre che quello del professore non ha inciso per nulla sul voto finale. E questa è la dimostrazione che il giudizio su di lei è il risultato dei voti di tutti i professori e giudici presenti in studio. Tuttavia è probabile che questa accesa polemica contro Rudy sia stata anche dovuta allo scontro avuto da Rudy Zerbi con Giordana. La giovane cantante si rifiuta di presentare il testo di una canzone assegnata dal professore, in quanto non la ritiene adatta a lei. A difesa della ragazza molti giudici, tra cui Emma, che non manca di bacchettare il suo ex maestro. Non siamo a dieci anni fa, dichiarato la giovane artista. Rudy ha chiuso la polemica dando come voto zero alla prestazione di Giordana. Siamo certi che la questione non finisce qui. Ricordiamo intanto anche gli altri finalisti, oltre a Tish, che sono Raphael, Giordana, Vincenzo e Alberto. Si prospetta una serata dalle grandi emozioni e colpi di scena. Di sicuro gli addetti ai lavori hanno la convinzione che Tish sia una delle favorite per aggiudicarsi l'ambito premio. Riuscirà a raggiungere questo traguardo la ragazza con le lentiggini finte? Tish, secondo voi, è raccomandata da Rudy Zerbi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.